Sono italiana, vengo da Milano a nord dell'Italia, ho fatto due settimane di corso a Killarney, ho seguito il corso intensivo, quindi 6 ore al giorno in classi di 4-5 persone ed è stata un'esperienza veramente positiva, perché nonostante 6 ore possano sembrare pesanti, in realtà il tempo è passato velocemente, il corso era molto basato sulla conversazione e sull'ascolto delle notizie alla radio e anche sui TED Talk, è stato molto utile e divertente. L'inglese, anche se due settimane sono forse un po' poche, ma sicuramente il mio inglese è migliorato come ricchezza di vocabolario e come capacità di comprensione. Ero qui con mio nipote e mio figlio di 11 anni e anche loro hanno seguito il corso e sono molto entusiasti dell'esperienza, in quanto anche la scuola per i bambini è molto interessante e li fa divertire molto, specialmente le attività che fanno nel pomeriggio. Anche noi abbiamo fatto l'esperienza in famiglia, quindi eravamo in una famiglia, la famiglia Onil, che ci ospitava. Questa famiglia ha tre figli della stessa età di mio figlio e mio nipote e quindi i bambini si sono trovati subito a loro agio e si sono divertiti molto. La famiglia è estremamente disponibile, molto gentili, hanno fatto di tutto per farci sentire a casa nostra e ci suggerivano attività da fare per scoprire Killarney e anche ci davano suggerimenti su come imparare meglio, perfezionare l'inglese, perfezionare la lingua. Killarney è un posto meraviglioso, ci sono un sacco di attività da fare, si è immersi nella natura, questo parco nazionale naturale bellissimo, con tante passeggiate da fare, in bicicletta, a piedi e tanti posti da esplorare.